...fuori di peso. Ne prendiamo tre al volo a ripetizione e poi ci teniamo un minuto di chiusa la testa. Volevo solo aggiungere una cosa in merito a come si esce e quando si esce. Vi ribadisco il concetto che Jens Weidman sostanzialmente ha chiamato il blef di Draghi perché ha detto che lo stress test, cioè la verifica dell'affidabilità delle banche, dovrà essere fatta considerando rischiosi i titoli pubblici dei paesi periferici, cosa che fino adesso formalmente non veniva fatta e quindi ha detto a Draghi tu con il tuo OMT non riuscirai a difendere l'euro, punto. Quindi nel mio libro in particolare io esamino uno scenario di uscita unilaterale dell'Italia ma lo faccio per combattere le paure che criminalmente la stampa ha instillato nei lettori essendo a servizio di un certo tipo di politica. Però non è che questo sia né uno scenario particolarmente, come dire, non saprei attribuirgli una probabilità e non lo auspico. Quello che auspico e che probabilmente auspica anche Weidman che è molto più importante di me e se lo merita, è che se ne esca la Germania. E vi ricordo che esiste un sito europeansolidarity.eu dove trovate il manifesto di solidarietà europea che è una proposta organica e costruttiva di smantellamento dell'eurozona partendo dai paesi del nord che è uno scenario che secondo me sta acquistando plausibilità in questo periodo. Tutto qui, scusate.